Cari amiche, siete pronti a confrontarvi con i giudici di Masterchef? Probabilmente no. A questo scopo però noi vi aiuteremo oggi a realizzare una frittura perfetta, croccante al punto giusto e allo stesso tempo leggera. Ci sono molti segreti per realizzare appunto questo tipo di preparazione ma soprattutto noi dobbiamo ricordarci che l'inconveniente che ha la frittura è di lasciare molto spesso in cucina un cattivo odore per qualche ora e proprio per questo la nostra frittura dovrà essere effettuata rapidamente e con dell'olio molto... Scusate amiche. Pronto? Non ho intenzione di friggere, ma... No, no, ma figurati, lo so che l'altra volta poi la casa è rimasta impregnata per due giorni e quindi io non so perché ti sei venuto in mente che... Sì ma io quell'olio di semi l'ho comprato, no, per un'altra ragione, guarda anzi, io stasera pensavo così di andare a cena fuori... Nessuna frittura, non ti preoccupare, va bene? Ci vediamo dopo, ciao ciao... Cari amiche, per ragioni tecniche, noi dobbiamo rimandare il nostro incontro sulla frittura a un'altra occasione. Vi auguro a questo punto buon appetito, arrivederci amiche. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.